E proviamolo questo milkshake virale, che si chiama? Grimes Milkshake Ok, prendiamo mirtilli, lamponi, buoni eh? Gelato alla vaniglia, latte e frulliamo tutto Ecco qua che è venuto questo colore violaceo Mettiamo nel bicchiere, guarniamo con panna montata, frutti di bosco e... com'è? Buonissimo! In cucina con mamma vi augura un buon milkshake E mi raccomando, restate sazi!